Che cosa sono le infezioni da clostridium difficile, quanto sono frequenti e quali sono i farmaci oggi a disposizione? Lo chiediamo al professor Nicola Petrosillo in occasione del congresso della Sita in corso a Milano. Quanto è importante, quanto sono gravi professore le infezioni da clostridium difficile? Sono veramente un problema come si sente parlare oppure sono fatti episodi che capitano ogni tanto, che allarmano ma sono in fondo abbastanza rari? No, sono abbastanza frequenti nelle strutture sanitarie, nelle organizzazioni sanitarie, non solo ospedali ma anche strutture residenziali per anziani. Laddove si usano antibiotici purtroppo questi possono dare degli effetti collaterali, fra cui la modificazione della flore intestinale. Se entra questo batterio questo poi diventa un problema, può dare delle forme di diarrea molto gravi. Lei qui al congresso ha parlato di una gestione globale del paziente con infezioni da clostridium difficile, cosa intendeva dire? Si, perché si tratta di una patologia che si sviluppa in una fase primaria, una fase acuta, e poi può dare delle recidive, recidive che in alcuni percentuali di casi sono abbastanza elevati, intorno al 20-25%, recidive stiamo parlando di recidive a 30-40-50 giorni, con delle problematiche più gravi ogni volta che si hanno le recidive e colpiscono poi magari delle persone anziane con delle comorbosità. L'approccio non può essere soltanto un approccio con degli antibiotici che in qualche modo uccidono, va fatto anche quello, che in qualche modo uccidono questo batterio nell'intestino. Bisogna pensare a un approccio globale, quindi i programmi di stewardship, di ottimizzazione degli antibiotici, l'infection control, quindi tutto quello che modifica la possibilità di trasmissione. Poi dobbiamo pensare anche a una gestione che sia non antibiotica, con una prevenzione che per esempio preveda l'utilizzo di anticorpi monoclonali per particolari pazienti a rischio, anticorpi monoclonali diretti contro quello che è l'agente della malattia, che non è il clostridium ma la tossina che il clostridium produce. Addirittura c'è la possibilità di fare dei vaccini in persone particolarmente a rischio di recidiva per ridurre proprio questa grave complicanza. Ecco, invece quando l'infezione si è manifestata, quali sono i farmaci da utilizzare? Oggi nella fase di infezione primaria, laddove c'è una diarrea, abbiamo degli antibiotici che funzionano, il metrinidazolo, la vancomicina, la fidaxomicina, ce ne sono in produzione anche degli altri. Sono antibiotici che vanno a colpire la gente di malattia, non colpiscono la tossina. Però torniamo sempre allo stesso problema, sono comunque degli antibiotici, quindi vengono ingeriti, arrivano all'intestino, uccidono il clostridium, però modificano ancora di più la flora intestinale, alcuni di più, alcuni di meno sicuramente, però non aiutano per quanto riguarda il problema delle recidive. Ecco, nuovi farmaci in arrivo, nuovi antibiotici in studio, quali sono? Ce ne sono alcuni in studio, qualcuno è già entrato in commercio, il cadazzolid. Sono antibiotici che hanno una maggiore selettività nei confronti di questo agente di malattia e quindi modificano meno la flora intestinale. Ce ne sono anche altri che stanno in fase di studio. Quello che è importante è che abbiamo anche ulteriori possibilità, per esempio per i pazienti che fanno delle recidive, oltre a quello che è il trapianto di feci che in qualche modo ricostituisce la flora intestinale, abbiamo anche delle nuove opzioni con delle sostanze che in qualche modo aiutano a ricostituire la flora intestinale senza ricorrere al trapianto di feci, che è comunque una procedura abbastanza importante, abbastanza impegnativa e che richiede uno sforzo anche dal punto di vista gestionale. La stiamo vincendo questa guerra col clostridium difficile oppure sta vincendo lui per adesso? Siamo in una fase nella quale bisogna avere molta attenzione e bisogna essere convinti che dobbiamo combatterla a 360 gradi, non soltanto utilizzando un antibiotico o una strategia. È una strategia globale, evitare certi antibiotici perché modificano la flora intestinale, quindi la stewardship è molto importante, migliorare i programmi di infection control, quindi in ospedale, le precauzioni da contatto, e questi sono punti importanti, senza di questo non la vinceremo mai. Poi i nuovi antibiotici, i vaccini, gli anticorpi monoclonali, tutto questo aiuta, però se non andiamo sulla prevenzione non ce la faremo mai.